Appuntamento al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela per due illustri relatori. Si tratta degli ingegneri Giorgio Michale e Onofrio Scialdone, docenti universitari a Palermo e già impegnati rispettivamente con la University College di Londra e la Boston Consulting Gruppo di Milano. Agli allievi delle quinte classi della liceo gelese, diretto da Angela Tuccio, è stata presentata l'offerta formativa dei corsi di laurea magistrale in ingegneria con particolare attenzione rivolta alle attività di ricerca scientifica nel settore dell'energia da gradienti salini, quella ottenuta dalla differenza nella concentrazione del sale fra l'acqua di mare e l'acqua dolce. Giorgio Michale, ultimamente, è stato ospite nella trasmissione televisiva Superquark condotta da Piero Angela. Le attività che si svolgono all'Università di Palermo sono attività che garantiscono un percorso formativo di assoluta eccellenza, di assoluta competitività, per cui siamo certi di dire che i nostri laureati competono ai migliori livelli con i laureati delle altre scuole italiane e anche con i laureati che si trovano in Europa. C'è stata un'importante rimodulazione delle tasse a favore degli studenti delle fasce più disagiate, in modo tale da favorire la loro iscrizione nel mondo universitario per dargli una possibilità in più. C'è un importante piano di investimento sul personale che vedrà molti nuovi ingressi. La nostra Università e Ingegneria, in particolar modo a cui appartengo, stanno investendo potentemente e fortemente su se stesse per fare sì che possano dare un'opportunità sempre più importante ai nostri studenti. L'Università di Palermo punta su Gela. Sul nostro territorio, infatti, sono presenti risorse e potenzialità davvero notevoli e dire livello della formazione maturato dai giovani nell'ambito dell'ingegneria e di altissimo prestigio. Il professore Giuseppe Larocca. Contrariamente ai numeri che solitamente vediamo e all'esito in cui assistiamo di sovente, cioè dei nostri studenti che magari migrano verso altre mete, per noi è molto importante cercare di trattenere le nostre intelligenze nel territorio e fare in modo che sia rivalutato davvero il nostro patrimonio, che non è soltanto quello culturale, ma è quello delle potenzialità dei docenti, delle strutture universitarie, delle scuole della nostra bella e grande Sicilia. Quindi crediamo molto nella possibilità di continuare la formazione dei nostri studenti anche fino agli studi universitari, completandoli con la laurea magistrale nel nostro territorio per poi affrontare il mondo del lavoro sicuramente in modo libero e trovando le opportunità o nella nostra Sicilia o anche altrove, però non precludendo la possibilità di offrire loro un'offerta formativa veramente molto importante e significativa.